Sono per lo più piante del rosario e palmi americane le 80 alberature che impreziosiscono i circa 900 metri di strada parco che vanno dalle naie di avvia Ruggero VII nel tratto di cantiere che è stato oggetto dell'incontro con la stampa, convocato dai consiglieri di centro-sinistra del comune di Pescara ed alcuni rappresentanti del comitato strada parco bene comune per denunciare interventi che metterebbero a rischio la stabilità delle alberature stesse. Le colate di cemento sulle radici delle piante dimostrano la scarsa attenzione dell'amministrazione comunale di Pescara per il verde pubblico cittadino, denunciano i consiglieri di opposizione di centro-sinistra. Stefania Catalano, consigliere comunale del PD. Noi chiediamo innanzitutto che vengano bloccati i lavori e bisogna assolutamente obbligare la tua a procedere secondo le prescrizioni effettuate dal servizio verde ma ancora di più devono porre rimedio ai danni che già sono stati fatti. Per noi è davvero un'uscita molto infelice quella che ha fatto ufficiosamente il vice sindaco dicendoci che il getto di cemento che è stato effettuato sulle radici serviva soltanto per ridimensionare il cordolo. Non è così perché altrimenti non sarebbero state molto forti le prescrizioni effettuate dal servizio verde. Quindi bisognava sicuramente investire di più a livello economico, cosa che non è stata fatta perché certo è molto vantaggioso procedere con delle ruspe e togliere le radici invece di procedere con un lavoro meticoloso, togliere le radici superficiali come prescritto appunto dal servizio verde. Quindi quello che ci preoccupa è la superficialità eccessiva e soprattutto noi ci saremmo aspettati che dopo una commissione di controllo e garanzia con foto e prove si procedesse con un sospendere i lavori per fare i dovuti accertamenti. Marco Ferreri del Comitato Strada Parco Bene Comune, cos'è che vi preoccupa per quanto riguarda le alberature in questo cantiere? Sono stati fatti lavori superficiali per risparmiare perché il cantiere prevedeva inizialmente lo stanziamento di 15 milioni di euro e sono stati ridotti a 1 milione di virgola 6. Quindi la paura che non sia stato utilizzato il terreno vegetale e il tessuto non tessuto che sono più costosi ma in realtà sono state soltanto rimosse le radici, l'apparato radicale delle radici e buttate con l'atto di cemento. In questo modo l'apparato radicale non potrà ricrescere nella parte dove è presente il cemento e questo metterà in discussione la stabilità delle piante e la vita delle stesse. Questo per noi è inaccettabile perché un patrimonio arboreo di questa importanza per il Comune di Pescara non può essere distrutto da questo tipo di lavori. Chiediamo a questo punto ai funzionari del Comune e ai soggetti terzi indipendenti di fare il controllo sulla stabilità e sugli apparati radicali perché poi in futuro se gli alberi cadono ci potrebbero essere le conseguenze tra barra 1 o barra 2 anime e poi sarà più difficile capire di chi sono le responsabilità. Quindi è importante un intervento immediato.